Io dico... ... ... ... ... Ada Il Sì, sì, lo sai? Sì, sì, lo sai? Sì, sì, lo sai. Sì, sì. Sì, sì. Più tardi mi vedrà un altro, te li inserlo, però non saranno le perviste. Sì, sì. Vedete cosa? Ok? Dom'è la persona? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Brava! Ragazzi, mi raccomando, leggete tutto il piazzo di un giornalista dell'ANFA che viene in tutte le alle, in tutte le classi, quindi anche voi siete stati, qualche impressionante alle professori sulla nuova seconda prova. Quindi tenetevi pronto.